Buongiorno a tutti e bentornati ragazzi sono Jacopo della The Crypto Academy e oggi facciamo un video un po' diverso facciamo un video un po' diverso perché vedo che comunque questa cosa di futures se ne parla tanto in molti anzi forse in troppi ne parlano e allora visto che tutti ne parlano ne parliamo anche noi perché così siamo un po' mainstream anche noi cosa sono i contratti futures che da oggi a quanto parla ormai da qualche settimana sembrano dominare tutte le paure complottiste di tutte le più grandi testate giornalistiche il contratto futures ragazzi non è altro che tra l'altro come dice il nome un contratto futuro un contratto futuro su il prezzo di una determinata scadenza di un determinato bene in questo caso il bitcoin i contratti futures sono uno strumento derivato cosa significa? derivato appunto significa che deriva deriva dal prezzo del bitcoin ma in sostanza non si acquista effettivamente il bitcoin ma il bitcoin funge da sottostante dalla quale deriva l'andamento del contratto future quindi se voi fate trading sui contratti futures o comunque su altri strumenti derivati non acquistate effettivamente quel bene che può essere il petrolio, il bitcoin, le azioni della Apple ma fate semplicemente una speculazione sulla variazione del valore di quel bene il valore di quel bene viene preso dal bene stesso che è appunto il sottostante quindi in questo caso il bitcoin oppure l'azione della Apple e quello che è cosa comporta quindi tutto questo? comporta anzitutto se partiamo proprio da un punto di vista di approccio la possibilità di investire in bitcoin anche senza acquistarlo fisicamente e quindi senza poi avere tra virgolette la pappardelle la responsabilità di doverli custodire in maniera sicura voi ora immaginatevi un investitore insomma una persona che ha dei capitali vorrebbe investire in bitcoin ma non ha voglia non ha tempo di star lì a capire cos'è, cosa non è dove tenerlo, l'exchange migliore, il wallet migliore, più sicuro lì cambia i dollari, cambia gli euro compraci bitcoin, il bitcoin poi prende e li mette nelle wallet insomma se io non c'ha voglia tramite questi strumenti derivati può fare tutto ciò praticamente sempre utilizzando sempre valuta fiat quindi compra in euro e riceve in euro e fa tutto in euro anche se poi il valore è in bitcoin e quindi già questo può essere un primo punto di considerazione da partire potrebbe quindi avvicinare molti altri investitori altro sicuramente punto diciamo sulla quale sostanzialmente tutti si fermano è un po' il cavallo di battaglia delle ultime settimane visto che la settimana scorsa i contratti futures sono stati diciamo è stata fatta richiesta poi la richiesta è pervenuta appunto alla US Commodity and Future Trading Commission che ha dato il via libera e la settimana scorsa sono partiti quelli del Chicago Board Option Exchange a fare appunto questi futures questi strumenti derivati e regolamentati e invece questa settimana è adesso cioè domenica sono partiti i CME cioè i Chicago Mercantile Exchange che praticamente è un'altra società che fa questi contratti futures il contratto futures appunto come dicevamo è questo contratto a cui incontra due parti un compratore e un venditore in sostanza quindi io dico a un altro che voglio acquistare bitcoin bitcoin ad un determinato prezzo ad una determinata quantità ad un determinato prezzo ad una determinata scadenza facciamo esempio 20 bitcoin a 20.000 dollari il boh quando c'è la scadenza del contratto mettiamo il il 20 di gennaio quindi il prezzo se il 20 di gennaio bitcoin varrà più di 20.000 dollari io ci ho guadagnato perché io li pago 20.000 se valgono meno invece ci ha guadagnato quelli che mi li ha venduti perché ovviamente li vende a un prezzo maggiore rispetto al prezzo di contrattazione ovviamente non bisogna però aspettare per forza la fine e la scadenza del contratto si possono anche rivendere i contratti in atto quindi poi molte volte la stragrande maggioranza in realtà non si aspetta mai la scadenza del contratto è tutto un vendere e rivendere un po' così per cui in sostanza serve un po' quasi se vogliamo dire a scommettere sul futuro valore che potrà avere il bitcoin a livello speculativo poi i contratti futures possono essere anche usati per altri scopi o vengono anche usati per altri scopi come può essere appunto l'arbitraggio ma soprattutto la copertura un esempio veloce su cos'è l'edging la copertura potrebbe essere immaginatevi Bartolini più o meno penso sapete tutti chi è Bartolini quello che consegno con i furgoncini rossi ha una marea di furgoncini rossi la benzina sicuramente è un fattore importante sul costo di quanto deve far pagare per una spedizione espressa tanto rientra tutto il dipendente tra tutto rientra anche ovviamente alle spese relative al furgoncino e quindi alla benzina Bartolini presumo abbia delle pompe sue sicuramente nei punti di raccolta più grandi di snodo è molto probabile che abbia delle sue pompe e che quindi lui non è che i furgoncini li fa andare al distributore dove andiamo noi avrà delle pompe interne dove lui a livello di società compra dei grossi quantitativi di petrolio e scusi se vabbè di petrolio avete capito di benzina di carburante a quel punto cosa succede non è che il carburante costa sempre uguale tanto l'abbiamo visto tutti da un mese all'altro possono essere anche dei cambi abbastanza sostanziali allora come fa lui a garantire sempre lo stesso prezzo un mese ci guadagno un mese ci perdo un mese ci guadagno no sarebbe abbastanza impossibile portare avanti una ditta così cosa fa quindi lui compra ad esempio il carburante ad un determinato prezzo e poi fa una posizione di copertura ad esempio in short quindi se il prezzo quindi lui guadagnerà se il prezzo del carburante scende di conseguenza se il prezzo del carburante aumenta lui l'ha comprato prima che il prezzo aumentasse quindi da quel punto di vista ci ha guadagnato però ci perde dalla posizione di copertura dove invece guadagnava se il prezzo scendeva viceversa se il prezzo del carburante sale no scusate se il prezzo del carburante scende ci perderà dal fatto che lui l'ha comprato prima quando costava di più però ha una posizione in short e quindi ci guadagna facendo queste due cose fa la media sostanzialmente lui il carburante lo paga sempre uguale quindi così può pianificare diciamo e fare appunto un prezzo e portare avanti un'azienda avendo almeno alcune voci di costo stabili stessa identica cosa si potrà quindi fare sul bitcoin ad esempio stesso ragionamento lo possono fare ad esempio i miners quindi altro punto a cosa possono servire i futures al momento quello che abbiamo qui sotto ad esempio è il grafico appunto del bitcoin nei confronti del dollaro i dati sono presi dall'exchange bitstamp e quello che vediamo è che sostanzialmente non è che al momento abbia avuto chissà che flessione o chissà che rialzo sostanzialmente ancora si sta mantenendo ancora in un range tutto sommato lineare addirittura avrete qualche movimento massimo rotto retest precisamente sul massimo quindi al momento non vediamo chissà quali fluttuazioni poi sicuramente le varie elucubrazioni complottistiche da salottino dove la gente si immagina che i grandi player della finanza andranno lì a far crollare il bitcoin vabbè quelle le faranno ci sarà sempre qualcuno che le farà ma le farà senza conizioni di causa perché probabilmente fino a ieri non sapeva neanche cos'era il bitcoin oggi si è svegliato ha visto il bitcoin e deve per forza dire qualcosa però vorrei dire a queste persone che non è che neanche tanto tempo fa era circa quest'estate quando c'era iniziata a cercare anche su google i fat finger sul great britain pound quando durante la notte era sceso mi pare di 5 punti percentuali poi in 10 minuti dopo era ritornato ai livelli normali che avevano dato la colpa dei problemi di software di algoritmi allora queste cose queste grandi speculazioni queste grandi ci sono sempre state non è che ce le siamo inventate adesso quando c'è stato la brexit che sono usciti appunto i dati del referendum e quindi il popolo aveva aveva votato appunto a favore della brexit era ovvio che la sterlina sarebbe crollata ma se voi andate a vedere il grafico nella prima tipo mezz'ora la sterlina è incominciata a salire incomprensibilmente voi direste no non è incomprensibile in realtà è stato un movimento di mercato farlocco un tra virgolette possiamo chiamarlo un falso breakout che è andato a prendere tutti gli stop loss di tutti quegli operatori di mercato che avevano aperto posizioni correttamente in maniera short ma magari avevano messo degli stop loss minimi perché tanto ogni tanto il prezzo crolla e invece il prezzo prima era salito si è andato a chiappare tutti gli stop loss e poi il prezzo è crollato quindi queste cose ci sono sempre state non è che adesso il bitcoin perché nel forex è la stessa identica cosa se andiamo a vedere l'azionario è la stessa identica cosa ci sono punto non è che adesso il bitcoin è il bitcoin perché devo dire la stronzata sul bitcoin lasciateli fare ma questo non vuol dire che poi non arriverà un movimento strano anche sul bitcoin ma voglio dire c'è sempre stato sempre ci sarà poi se non avete un'idea di cos'è un mercato finanziario statene fuori a prescindere ma non dovete starne fuori perché il bitcoin è una truffa il bitcoin non è una truffa arriva qualche genio che lo paragona alla bolla dei tulipani santo cielo da una parte ci sono i tulipani da una parte c'è una tecnologia che sta rivoluzionando il mondo come fate a paragonarla io non lo so però lo fanno va bene o addirittura il default dei credit swap del 2008 cioè lì cazzo davano le marchiette a a standard and poor se mudi per modificare il rating di quei prodotti finanziari da tripla c a tripla è normale che prima o poi la bolla scoppia voglio dire se dietro c'è questa robaccia prima o poi scoppia è vero che magari al momento la tecnologia che ha il bitcoin è stata superata da tante altre criptovalute ma è anche vero che comunque ci sono tanti altri fattori che incrementano il valore del bitcoin uno di tutti sicuramente è la notorietà è l'araldo di tutta questa rivoluzione è comunque a quantità finita come una materia prima tutti questi fattori non si possono ignorare poi c'è chi deve sparare perché tanto qualcosa lo deve dire lasciamolo fare farà come gli pare fondamentalmente non è che quello che sostanzialmente vorrei faceste un po' tutti se proprio dovete dire qualcosa almeno prima spendeteci mezz'oretta per studiare poi magari la cavolata viene fuori uguale magari io sto dicendo un sacco di cavolate ma vi assicuro che è un po' di tempo che ci sto dietro quindi se sto dicendo una cavolata la sto dicendo con una sorta di cognizione di causa se tanto per dire evitiamo perché non serve veramente niente e se non vi interessa niente del bitcoin non state nemmeno a sentire cosa dice i giornali o non fatevi un'idea semplicemente su quello che dicono lì perché non ha senso lasciate perdere lasciateli scrivere quelli che vogliono e vabbè tanto qualcosa dovranno dire anche loro per cui oggi penso che è un po' questa lezione breve su spero vi sia stata un po' d'aiuto su cos'è un contratto futures quindi sostanzialmente facendo un breve ripasso è uno strumento finanziario derivato quindi non si acquista effettivamente il bitcoin ma se vogliamo proprio semplificare si va a scommettere sul futuro valore del bitcoin un domani ok non si acquista quindi appunto è un derivato il prezzo del futures deriva dal sottostante sottostante il bitcoin al momento non sembra che tutto questa cosa che doveva smuovere sia stata smossa vedremo il tempo ce lo dirà non soffochiamoci di pregiudizi complottisti che non servono a niente veramente star lì a fomentare ansia paure veramente non lo capisco questo non vuol dire che bisogna essere sempre solo ottimisti per carità però avete una testa ragionateci fateci analisi se non sapete cosa fare informatevi se no se non vi volete informare non sapete cosa fare semplice non fate niente è meglio almeno non sbagliate però ecco spero che almeno un minimo se vi proprio l'interesse vi scaturisca magari qualche informazione in più l'avete avuta poi vi consiglio di andare andate su google cercate cos'è un contratto futures andate sul sito della consop su dov'è vi spiegano cos'è un contratto futures e più o meno capite come funziona anche tutta quella questione che sono dovute ai margini cosa sono i margini perché un contratto future è una margina cosa serve il margine cosa è la leva se proprio vi interessa ve andate a cercare se non vi interessa lasciate stare cosa vi dicono tanto per dire dove vi dicono che la leva è rischiosissima di qualità è rischiosissima se non la sai usare è un fattore di guadagno esponenziale se la sai usare poi ovvio come tutti i fattori di guadagno che incrementano i guadagni incrementano anche le perdite ragazzi cioè non bisogna solo dire che incrementano le perdite bisogna anche dire che se ti va bene guadagni di più non bisogna però nemmeno solo dire che se ti va bene guadagni di più senza dire che se ti va male perdi molto di più bisogna dirle tutte e due poi sta alla persona intelligente e responsabile muoversi di conseguenza ok quindi siate intelligenti siate responsabili per quello che è bitcoin e per quello che è tutto ciò che riguarda il mondo della finanza del trading non mi dilungo su cose mie personali su insomma pensieri mie personali anche perché non vi voglio influenzare anzi avete una testa usatela per cui avete avuto qualche dato in più se proprio vi interessa vi andate a cercare qualcosina in più e noi ci vediamo come sempre qui sul canale della The Crypto Academy sul nostro gruppo sulla nostra pagina per restare aggiornati uniti e informati su quello che è l'andamento di tutto il mondo crypto che comunque se buttate un occhio qua anche oggi è all in green ok quindi bolla o non bolla ma sta bolla sarà sarà che è una bolla comunque intanto noi ci guardiamo questi bei numeretti che sale tutto io vi saluto nuovamente vi auguro una buona giornata ciao ragazzi grazie a tutti